Una nonna e un nipote, di fronte a loro un televisore che rimanda alle immagini del tremendo terremoto di Amatrice. Lei, persa tra le spirali di una mente non più del tutto presente, guarda ma non capisce bene cosa sia successo e lui allora ricorre a Google Maps per farle rivedere quei luoghi come se tutto fosse ancora in piedi e a una ricetta antica, quella ovviamente dell'amatriciana. Michela Monferreni, da scrittrice, ha mediato così in questo libro tra finzione e realtà, consapevolezza della tragedia e desiderio che qualcosa comunque rimanga, anche se solo nel cuore di chi guarda e vive. Ho cominciato a scrivere un paio di giorni dopo il terremoto, proprio nel tentativo di fare qualcosa, esattamente come nelle trattorie, nelle pizzerie, molti cuochi si sono messi a disposizione facendo la matriciana e quindi ho sentito che ciascuno, anche non lavorando nel volontariato, ma ciascuno nel suo piccolo poteva fare qualcosa e lavorando con le parole, io ho usato le parole esattamente come i cuochi hanno usato i loro ingredienti. Oltre veramente ai personaggi dei protagonisti veri e propri hai raccolto tutta una serie di storie tra fantasia e realtà. Volevo che nel libro fossero presenti dei dati reali e ho cercato di nominare quante più persone possibili, quante più vittime possibili, ne nomino tante perché c'è questo telegiornale che sente anche la nonna, che sente e non coglie, ma che trasmette per esempio i funerali delle vittime e quindi questi nomi che vengono letti, nominati ed è anche credo bello continuare a pronunciare questi nomi perché in fondo è come dire che appunto resiste ancora qualcosa. I proventi dei diritti d'autore del libro saranno destinati all'associazione di genitori Amatrice, l'alba dei piccoli passi. Questo è un libro per ragazzi, per adulti ma anche per ragazzi e pensando che andrà nelle mani e va nelle mani dei ragazzi volevo che si sentisse questa comunione. Formazione, educazione alla bellezza, spiritualità critica, attenzione al sociale. Edizioni La Meridiana, la casa editrice fondata dai giovani di Don Tonino Bello, compie 30 anni. 700 titoli, 550 autori ed un catalogo di nomi nazionali ed internazionali per un esperimento nato nel 1987 nella provincia a nord di Bari, quartier generale del Vescovo Illuminato, fondatore di Pax Christi. La cooperativa La Meridiana è nata dall'esperienza della Casa per la Pace. Si è sentito a un certo punto il bisogno di darsi un strumento che potesse diventare anche uno strumento culturale su questi temi, il che significa anche pubblicare, essere occasione di confronto, essere occasione, motore diciamo culturale. L'altra idea forte era che questo si potesse fare stando qui, perché quello era un momento nel quale del Mezzogiorno del Sud, come anche della Puglia, si aveva un'idea di chi sta alla periferia e chi sta alla periferia della storia, delle economie, chi non è in grado di elaborare delle culture. Don Tonino invece ci spingeva ad essere elaboratori, ad essere creatori, ad essere udaci nelle scelte. Don Tonino diceva che la Puglia è un arco di pace e non un arco di guerra e questo noi l'abbiamo capito dopo. Oggi la Puglia è tutto il Mezzogiorno, il Sud d'Italia, il Sud d'Europa. Non frontiera, periferia, ma centro del futuro che sta arrivando. Per festeggiare i 30 anni la casa editrice ha regalato l'ebook del primo libro edito Il mito è l'archetipo nella fiaba di Mario Bolognesi.